Boris Johnson non cede alle pressioni dei toris e rinnova la fiducia al suo consigliere Dominic Cummings, che avrebbe violato diverse volte le regole del lockdown. Il 31 marzo Cummings, con moglie e figlio, furono visti a Durham. Johnson sostiene che abbia viaggiato dalla sua casa di Londra, dove era in quarantena, e abbia portato in automobile il figlio contagiato insieme alla moglie a 400 km di distanza per assicurare cure appropriate, violando però la quarantena. Ho avuto un faccia a faccia con Dominic Cummings e ho concluso che nel viaggiare per dare il giusto tipo di assistenza al bambino nel momento in cui sia lui che la moglie erano debilitati dal Covid-19 e di fronte all'assenza di alternative, penso che abbia seguito l'istinto di ogni padre e ogni genitore. E non lo condanno per questo, credo che abbia agito in modo responsabile e legale. Diversi parlamentari chiedono un'indagine sulla vicenda nei confronti del super consigliere del Premier, temuto più che rispettato. Cummings è definito dalla stampa come un bullo che ha imposto una cultura della paura tra i collaboratori e gli stessi componenti del governo. C'è una questione di fare le right thing, non di quello che pensate.